Un ormai collaudato meccanismo di addomesticamento e manipolazione di procedure di gara, pubblici concorsi e affidamenti di incarichi dirigenziali all'interno delle strutture sanitarie trapanesi, attuato secondo una logica clientelare e con la compiacenza di alcuni pubblici ufficiali. E poi ancora la gestione dell'agenda delle visite ospedaliere con il pagamento in contanti da parte dei pazienti, l'omissione della comunicazione del contatto stretto e della positività al covid-19 con compiacenza del responsabile di laboratorio, la richiesta di prestazioni sessuali ad una donna che aveva bisogno di supporto nella procedura di rinnovo della patente di guida, per finire alle false attestazioni di presenza in servizio tramite abusiva timbratura del beige elettronico. Tutto è scattato dalla verifica sulla regolarità di un bando di gara indetto dall'aspe di Trapani per la fornitura di attrezzature sanitarie necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria da covid-19 da destinare ai reparti di terapia intensiva. Tra l'altro il demanzionamento e la soppressione di strutture tipiche dell'aspe voluti dal management sanitario del tempo avrebbero finito con l'attribuire i compiti di valutazione, progettazione collaudo e predisposizione dei capitolati delle gare d'appalto in capo ad una sola persona esterna, l'amministrazione è contrattualmente legata alla spa che ha vinto l'appalto, andando così sostanzialmente ad attribuire al controllato anche il ruolo di controllore, condotte illecite anche relative all'assunzione di personale dirigente ed amministrativo presso l'azienda sanitaria provinciale di Trapani. Ai candidati, poi risultati vincitori, veniva consegnato il testo da cui sarebbero state tratte le domande da porre in sede d'esame o addirittura specifiche indicazioni in merito al contenuto delle domande stesse. In un caso un componente della commissione ha agevolato un candidato affinché selezionasse la busta contenente i quesiti concordati. Due le persone in carcere, otto agli arresti domiciliari e tre sottoposte all'obbligo di dimora. Nell'operazione denominata Aspide sono complessivamente 17 le persone indagate dalla procura.